Il premio Ciavai di poesia in dialetto nasce dall'intento di promuovere e mantenere la cultura e tradizione legata al genovese. In 34 anni di vita l'iniziativa dell'Associazione Culturale Castello è stata arricchita di ulteriori sezioni del premio, uno dedicato alla fotografia e uno alle tesi di laurea. Quest'anno la scrittrice che ha saputo meglio immortalare un'immagine tipicamente ligure nel suo componimento è stata Nanda Fellerini che ha focalizzato la sua attenzione su un luogo legato alla vita agricola, il frantoio. E questo mi ricorda il sapore dell'olio sul pane di casa quando eravamo bimbi e anche l'odore che io lo definisco, l'odore un po' particolare dello stoccafisso che bolle e intorno a questo stoccafisso tutti quanti ad aspettare per assaggiare come sarà l'olio di questa annata. Ambientata in un luogo, un tempo di utilizzo comune, la miglior fotografia premiata con il premio Pippo Raffo consegnato a Maria Luigia Vaccarezza. Ho fotografato i traggi, volevo che si vedesse i rubinetti, l'ardesia dove vengono lavati i panni e quindi anche un po' di particolari, le mollette di legno di quei tempi e anche il cattino che era ancora un cattino proprio vecchio di alluminio diciamo. Tra le tesi di Laura che sono state insegnate dal riconoscimento della giuria. La prima è la famosa millenaria Abbazia di Borzone, l'alto premio interessante fatto tra l'altro a due mani da una ragazza di Chiavari e da una ragazza di Sestri Levante, quello sull'antica celeria di Chiavari e poi un'altra che è stata una scoperta realmente curiosa perché ci ha fatto conoscere l'Itralallero che è questo canto polifonico genovese ed è stata appunto fatta una tesi da una chiavarese.